Buonasera ai nostri telespettatori, per ritrovare l'appuntamento con i fatti e le opinioni, tempo permettendo al 10 maggio possiamo dire che inizia la stagione turistica estiva in Abruzzo, lo fa dopo una situazione climatica un po' bizzarra come tutte le primavere, ma lo fa nella speranza che ci aiuti anche il tempo a replicare gli ottimi risultati delle stagioni precedenti, ma anche a fare la gioia oltre che dei turisti anche di una parte importante della nostra economia. Di questo parleremo avendo ospite in studio il sottosegretario al turismo per la regione Abruzzo, Daniele Damario, vi ringrazio e saluto per aver accorto il nostro invito. Buonasera, accanto a lui due protagonisti delle politiche turistiche in Abruzzo, sia a livello istituzionale, sia anche a livello di rappresentanza di un mondo che è un po' anche diviso in questa nostra scelta tra la costa e le aree interne. Salutiamo Gianni Tauci, Presidente del Porto Turistico Marina di Pescara, buonasera Presidente, e Dario Golecchi, Presidente del Polo Innovatur, buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Intanto bisogna prima di iniziare rappresentare anche il nostro cordoglio per la notizia che ci ha raggiunto mentre stavamo per iniziare questa registrazione della perdita del padre, per il Presidente della vostra regione Marco Marsilio, non so se l'ex Assessore al Turismo, la Sottosegretario Damario, se la sente di rappresentare anche il suo Stato d'animo? Sicuramente la perdita di un genitore è sicuramente un momento difficile, anche io purtroppo qualche giorno fa ho perso una persona cara e quindi capisco e comprendo lo Stato del Presidente a cui vanno le nostre condoglianze, lo stringiamo con un forte abbraccio in questo momento difficile sicuramente. Ecco, peccato perché per Marsilio questi sono giorni anche proprio sul fronte turistico, dovevano essere giorni di grande gioia perché rivedere il Giro d'Italia, e qui andiamo proprio nel cuore del nostro argomento, sulle strade, sulle montagne, in questo caso da Abruzzo con l'arrivo che è previsto per domani a Prati di Tivo e poi anche sulla costa con altre località che verranno sottoposte a una vetrina internazionale con le immagini, le inquadrature, le voci e il sudore dei ciclisti, davvero questo è un momento molto rilevante al punto di vista della promozione della nostra regione, è chiaro che non si fa con lo Stato d'animo di sempre. Da Mario, intanto però c'è un grande evento, è quello da cui vorrei partire per spiegare un po' la fotografia del turismo in Abruzzo. Sicuramente sì, è un grande evento, il Giro d'Italia torna in Abruzzo in maniera importante, ricordato tu l'arrivo di domani in Pontagna a Prati di Tivo, poi la ripartenza da Vezzano e poi dopo essere uscito fuori regione torna in Abruzzo con l'arrivo il 15 a Francavilla al mare, la partenza il giorno dopo a Martinsicuro. Sicuramente è un momento di visibilità importante, noi contiamo tanto sui grandi eventi sportivi, soprattutto legati al ciclismo, ma non solo, per accendere un faro sul nostro territorio, io tengo che i risultati ci danno ragione, aver legato l'immagine dell'Abruzzo ai grandi eventi sportivi, tra cui sicuramente il Giro d'Italia, penso sia stata una scelta importante, vincente, su cui Regione Abruzzo è investito e ritengo che i frutti si vedano. Si vedono i frutti, la grande partenza del Giro d'Italia che ha acceso tantissimi riflettori lo scorso anno, più o meno di questi tempi, voi avete anche la dimostrazione che ha contribuito a far crescere il turismo? Sicuramente ha contribuito a far crescere l'immagine dell'Abruzzo, dico sempre una cosa che forse fino a qualche anno fa l'Abruzzo era uno dei segreti meglio custoditi al mondo, siamo riusciti a far passare l'immagine che in Italia, ma anche all'estero, che c'è una regione al centro dell'Italia facilmente raggiungibile, che ha tutto quello che serve per far felice un turista. Ripeto, i risultati per il momento ci danno ragione, c'è sempre più voglia d'Abruzzo e devo dire che sicuramente la grande partenza del Giro d'Italia dell'anno scorso che ha acceso un riflettore su una parte d'Abruzzo che magari gli abruzzesi conoscevano bene, però in Italia e nel mondo era poco conosciuto, sicuramente i risultati si vedono. La costa dei Trabocchi che l'anno scorso è stata oggetto della grande partenza del Giro d'Italia, oggi fa numeri importanti da un punto di vista turistico, è evidente che poi c'è ancora tanto da lavorare, più che sulla promozione di quelle aree, ma sul fatto che lì dobbiamo capire come ospitare i tanti turisti che oggi hanno voglia della costa dei Trabocchi, quindi bisogna mettersi seduti a un tavolino con le amministrazioni locali e capire come dare la possibilità alle tante persone che oggi vogliono investire in recettività in Abruzzo di dargli la possibilità, io dico sempre sediamoci un tavolo, mettiamoci d'accordo, vogliamo farle più lontano dalla costa, più vicino, alto, basso, di legno, di cartone, facciamolo come vogliamo, l'importante è oggi dare una risposta alle persone che hanno tanta voglia di quel territorio, che hanno tanta voglia di Abruzzo oggi, sicuramente siamo diventati una delle mete più importanti per quanto riguarda il turismo esperienziale, che riguarda principalmente le aree interne, è evidente che il core business del turismo abruzzese è ancora legato al mare, è legato alle spiagge attrezzate, soprattutto della costa Terramana, perché i numeri più importanti vengono da quell'area territoriale, perciò c'è un fenomeno di crescita che riguarda soprattutto le aree interne, riguarda la provincia dell'Aquila e riguarda quell'angolo d'Abruzzo che prima era meno nota. A proposito di eventi sportivi, poi parleremo del Polo Innovatur, il 16 se non erro, a Napoli verrà presentata la nuova stagione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, un evento che è stato anche contestato, ma che viene giustificato, abbiamo sentito più oltre lo stesso assessore da Mario, da una crescita della destagionalizzazione anche nelle aree dell'Alto Sangro. Questo volevo chiedere da operatore del settore, Dario Colecchi, se in realtà questo beneficio c'è stato e c'è percepibile, soprattutto in quei giorni, ma anche e poi lascia anche il segno rispetto al resto dell'immagine e della percezione del vostro territorio, non soltanto in Italia, credo. Indubbiamente c'è stato un aumento di presenza, ma al di là del fatto contingente della presenza del Napoli su Castel di Sangro, si è aperta la vetrina su un club che ha tifosi e sezioni di club in tutto il mondo, quindi ci ha dato un respiro dal punto di vista di conoscenza, di promozione e di appassionamento di tifosi del Napoli che sono sparsi in tutto il mondo sull'abruzzo e sull'organità dell'Alto Sangro. Dal punto di vista della ricettività si è aumentato il numero di richieste, soprattutto che non si è aumentato, sicuramente è aumentato l'afflusso. E perché le montagne abruzzesi nel mese di giugno, luglio e anche l'inizio di agosto sono i peripodi di preparazione delle squadre, riescono a essere competitive rispetto alle località del nord dove anche i grandi club storicamente si regolano? Perché sono infrastrutturate, sono infrastrutturate, ci sono strade comode, servizi adeguati all'avanguardia, ricettività attorno ai servizi, quindi va da sé che è un paradiso per chi vuole comunque allenarsi, anche perché il clima è un bel clima e permette determinati tipi di allenamenti e di agevolazioni. Diciamo che in Abruzzo fondamentalmente si sta bene, l'accessibilità è ottima, ci vorrebbe un qualcosina in più sulla mobilità interna, però diciamo che siamo messi bene dal punto di vista infrastrutturale, almeno per quello che riguarda il ritiro delle squadre. Bene, allora Gianni Tauci abbiamo già toccato alcuni temi relativi allo sport, a proposito di sport, volevo parlare di sport che sono più vicini all'attività del Marina di Pescara, che sono quelli di portismo sportivo, ma anche degli eventi che si preparano per voi nel corso di un'estate che sarà molto intensa, anche legata al fatto che non c'è il teatro d'annunzio, quindi avrete un numero raddoppiato penso di serate presso le vostre strutture, però io partirei da sottocosta, come sempre apre la stagione del turismo estivo e lo fa, con quali bilanci? Sottocosta quest'anno alla decima edizione ha dato degli ottimi frutti sia in presenza di espositori che stanno sempre più richiedendo la partecipazione a questo Salone Nautico del Medio Adriatico, sottocosta perché? Perché c'è una clientela, quindi una sezione di portismo molto interessata all'acquisto, a fare comunque l'affare durante il Salone, ma soprattutto perché si va a connotare, vista la presenza e l'ubicazione del porto turistico in Pescara e quindi nel Medio Adriatico, come un Salone accessibile da più regioni d'Italia. Quest'anno molte le attività che sono state svolte all'interno del Salone, molti gli espositori, tante le barche in acqua, ma anche tante le barche presenti all'interno del Salone a terra, l'anno prossimo stiamo già lavorando per fare un'edizione numero 11 importante con nuovi espositori, per cui è stata decretata, la decima edizione ha decretato comunque il fatto che la gente vuole questo Salone e partecipa a questo Salone dalle famiglie che ci scelgono per portare i bambini, perché sono attività anche più piccole per i bimbi come le tartalughe che vengono rilasciate in acqua, piuttosto che tutta la parte dell'ambiente sottomarino che è molto interessante da parte dei bambini, ma anche non solo da loro. Quindi un evento importante che ha riconfermato il porto di Pescara e il marino di Pescara come la meta è importante per la nautica e il diportismo. Assessore Damari, entriamo nel cuore dei singoli temi, a quelli dei quali sono anche un po' problemi, ma problemi da crescita, non problemi da decrescita, perché i numeri salgono grazie all'azione di promozione, grazie all'attrattività di alcuni eventi come abbiamo visto. Si tratta poi di avere l'ambizione di fare un salto di qualità come lei già accennava rispetto a quello che è il modello turistico per esempio della costa Terramana e anche della zona degli alberghi di Montesilvano, di accrescere la permanenza in termini di giorni dei turisti che al momento sono quasi sempre di passaggio in alcune zone della regione. Su questo quali sono le vostre politiche e soprattutto come venire incontro all'enorme problema di una ricettività probabilmente ancora inadeguata, anche se in crescita il numero dei bed and breakfast e di altre strutture che stanno nascendo e quindi stanno creando e generando economia attorno al turismo. Sicuramente sì, noi ovviamente per i prossimi 5 anni l'intenzione è quella comunque di consolidare l'immagine del turismo e poi vedere come dare una mano al comparto attraverso l'utilizzo dei fondi che per i prossimi anni saranno fondi importanti per l'Abruzzo, quindi l'impegno sarà quello di creare un filone per gli imprenditori turistici per da una parte rinnovare le strutture che in alcune parti sono un po' datate e dall'altra per creare nuova ricettività, evidente c'è stata un'esplosione della piccola ricettività quindi B&B, gli appartamenti dedicati alle locazioni brevi che sicuramente rappresentano una cosa importante per quanto riguarda le aree interne, è evidente che faccio un esempio a Rocca Scalegna che ha tanti visitatori perché ha il gioiello del castello, è evidente che non si regge un hotel con 30 stanze tutto l'anno, è evidente che 30 invece attività di microicettività hanno ragione di esistere che spesso rappresentano un'integrazione al reddito familiare, non sono magari il reddito principale ma è importante. Oggi il modo di far turismo è cambiato, io vengo da Francavilla dove eravamo legati 35 anni fa al fatto che la gente veniva a fare la villeggiatura di un mese, tante famiglie e figli ci tornano ancora a Francavilla, esatto, eravamo legati all'idea di fare la villeggiatura di un mese sempre nella stessa casa, sempre con i soliti amici, oggi il mondo è sicuramente cambiato, anche chi ha la fortuna di fare un mese di vacanze durante tutto l'anno ma certamente lo divide in 5-6 tronconi e spesso non si va nelle stesse destinazioni. Noi stiamo lavorando a far sì che gli arrivi si trasformano in giorni di permanenza in più ma questo lo dobbiamo fare facendogli scoprire che l'Abruzzo vale qualche giorno di permanenza in più perché anche chi viene solo due giorni al mare se gli fa scoprire che ci sono le montagne che si può andare in bicicletta, si possono fare i cammini, tutto quello che è legato al turismo esperienziale abbiamo la chance di avere la presunzione di farli restare qualche giorno in più, su questa cosa ci stiamo lavorando, certo non è un'impresa facile, adesso parliamo di prenotazioni last minute ma le prenotazioni sono la seconda, la gente guarda le previsioni del tempo il venerdì e decide se il sabato andare in vacanza oppure no e quindi è un mondo che va sempre più veloce, è un mondo che è sempre più complicato in cui le OTA per il momento la fanno da padrone, però riusciremo, io sono sicuro che riusciremo a far sì le tante persone che vengono in Abruzzo che oggi una permanenza media di 2-3 giorni, di cercare di allungarlo almeno una settimana, c'è tanto da lavorare però la strada intapresa è quella giusta e ritengo che avremo i frutti di tanto lavoro che il Regione Abruzzo ha messo in campo per quanto riguarda il turismo già dalla prossima stagione. Benissimo, noi ci fermiamo per la prima delle nostre pause perché voglio sentire poi con calmo appunto i due rappresentanti del mondo del turismo che vivono sul concreto questa situazione, come è possibile dare anche praticità alle indicazioni che ci ha dato il sottosegretario tra poco. Allora siamo tornati in studio, Dario Colecchi, Presidente del Polo Innovatur, al quale chiedo come può appunto il tema dell'innovazione e anche della competitività di piccole realtà come quelle del turismo in Abruzzo, può essere utile per dare delle risposte alle questioni che abbiamo già iniziato a parlare, a trattare con il sottosegretario? Qual è il vostro ruolo e soprattutto sui temi specifici relativi alle potenzialità inespresse, come può essere utile il polo? Sì, come diceva il sottosegretario oggi il mondo va veloce, l'unico modo per correre alla pari o vicino a quello che sta alla facilità del mondo è affidarsi oggi alla tecnologia, come si sta facendo già da 5 anni, come si sta implementando. Con il TDAH nazionale l'Abruzzo è in prima fila, è una delle regioni che è in prima fila, è una delle poche regioni che già ha il DMS che praticamente struttura quella dell'offerta turistica sia per quanto riguarda il ricettivo sia per quello che riguarda le esperienze. Il lavoro svolto dall'assessorato al turismo nei 5 anni precedenti, soprattutto nell'ultimo periodo dopo il Covid è un lavoro importante, fondamentale che spero prosegua all'interno della conferenza delle regioni presieduta dal sottosegretario con la delega al turismo, perché l'Abruzzo sicuramente ha dimostrato e può e deve essere il capofila dell'Appennino. L'Appennino deve diventare una destinazione turistica, l'Abruzzo sicuramente può e deve essere il capofila dell'Appennino come distensione turistica, mettendo mano a quelle che sono delle infrastrutture che poi non sono infrastrutture eclatanti. Parliamo delle biciclette per esempio, dalla Bike to Costa alla Costa dei Trabocchi, più tutte le attività svolte da Gall per quanto riguarda il censimento e la tabellazione di vari tronchi ciclabili, solo in Alto Sangro ne hanno censiti 500 km, il collegamento di tutto riportato su il TDAH, le nuove tecnologie e quindi messa a conoscenza degli appassionati del mondo, ritengo che quello per esempio sia il paradiso della bicicletta per la conformazione che ha l'Abruzzo e quindi sicuramente un prodotto che si può esportare, un prodotto vendibile e un prodotto che darà tante soddisfazioni. Ce ne sono altri, tipo il teatro ambientale che viene preso sottovalutato e molto spesso dato per scontato, ma il teatro ambientale è un prodotto che porta dei risultati in termini di presenze che è fantastico, basta pensare alla festa internazionale degli ignomi che porta ingressi di 2.000-2.500 persone al giorno, quindi quella strada intrapresa è quella giusta, bisogna fare da locomotiva, ripeto, all'intero Appennino perché l'Appennino come destinazione turistica aiuta tutti e non è ancora percepita come tale, poi l'Appennino al suo interno ha di tutto, ha la storia del mondo, quindi basterebbe, non è una cosa banale è semplice, ma si dovrebbe creare un filo unico fra tutte le regioni dell'Appennino per poter portare questo prodotto all'attenzione del mondo. Spostiamoci sulla costa perché i problemi e le risorse positive sono più o meno le stesse, perché quando parliamo di sistema siamo lì, diceva giustamente da Mario Tauci che c'è una parte dell'Abruzzo che è abituata ancora alla vacanza familiare, sempre minore bisogna dire, di una settimana, qualche giorno in più magari, che ha avuto anche un rilancio per una serie di difficoltà che hanno vissuto le altre regioni, l'alluvione in Emilia Romagna lo scorso anno, turisti che sono arrivati e che hanno scoperto l'Abruzzo e che hanno deciso di tornare per anche la qualità delle acque, del mare e delle spiagge, un'altra serie di problematiche e anche di positività, invece valgono un po' a sud di Ortona, tanto per capire, di Francavilla Ortona. Come mettere a rete il prodotto mare abruzzese e che cosa chiedono gli operatori in termini di servizi? Abbiamo parlato di infrastrutture ma anche di normative per poter dare reddito, occupazione e uno sviluppo concreto all'industria turistica. Oggi il prodotto turismo mare è già un prodotto abbastanza connotato rispetto a quello che offre e a quello che riceve, abbiamo una costa molto organizzata, forse la parte di sviluppo come diceva il sottosegretario, è relativa alla costa dei Trabocchi che deve svilupparsi sotto il punto di vista della recettività, perché tutto il buon lavoro fatto per la promozione oggi deve diventare anche un buon lavoro per la recettività, perché molti hanno difficoltà a rimanere in quei luoghi più di un giorno, per chi è fortunato o comunque negli hotel presenti riescono a rimanere anche più giorni. La costa adriatica è una costa fortemente strutturata sotto il punto di vista alberghiero e anche a livello infrastrutturale, perché poi ha l'aeroporto, ha le stazioni dove comunque si fermano oggi anche i Frecciarossa, per cui l'attenzione oggi deve essere quella di riuscire a fare in modo che il turismo balneare riesca a conoscere di più anche il territorio interno, secondo me la sfida oggi deve essere quella di offrire per qualche giorno durante la settimana di permanenza estiva dei turisti negli hotel di venire a conoscere l'Abruzzo interno. Noi sulla costa abbiamo sicuramente anche una grande aggressione di quella recettività non censita, quindi sotto questo punto di vista si sta facendo anche tanto rispetto all'obbligatorietà di registrare sia i B&B sia gli appartamenti rispetto a quello che avviene, è un percorso che deve svilupparsi nei prossimi anni in maniera molto concreta, già tanto si sta facendo, però il problema reale è proprio quello. Poi invece come porti stiamo facendo un'azione relativa ad una rete di porti, ne abbiamo parlato a sotto costa per fare in modo che si crei l'apertura dal mare verso l'interno, che i porti diventino la porta dal mare per il territorio abruzzese, dando l'opportunità, anche perché abbiamo sottoscritto una convenzione già dall'anno scorso con gli operatori del turismo esperienziale, dare l'opportunità di poter vivere dalla costa anche all'interno. La grande sfida sarà quella di fare rete con il territorio interno e non di lasciare quel pezzo di turismo in termini numerici molto importanti fermo solo sulla costa, perché poi la destagionalizzazione avviene lì dove il turista conosce un pezzo di territorio interno e lo frequenta negli altri mesi, quindi viene a viverci e viene a vivere l'Abruzzo in quei mesi in cui occorre poi destagionalizzare. Le infrastrutture, Assessore Damario e la loro utilità per il turismo, per l'incoming in qualche modo, abbiamo visto, parlava del porto Tauci, che c'è questa interessante rete che si è messa su, perché in tanti vengono a fare di porto in Abruzzo, sulle spiagge dell'Adriatico, si fermano, possono restare. Qual è la permanenza media più o meno di chi viene stagionalmente al Marina di Pescara, Tauci? Chi attracca, attracca per un passaggio e rimane uno o due giorni per poi rimuoversi, così accade negli altri porti, perché noi siamo un porto intermedio a livello adriatico, quindi ci usano per poi ripartire e continuare. In quel momento dobbiamo fare in modo che loro conoscano quella parte di Abruzzo per poi tornarci in un secondo momento. Lo stesso fenomeno si sta verificando ed è in crescita, l'abbiamo visto proprio in questi giorni, per esempio ad Ortona con le crociere del Medio Adriatico, delle piccole crociere che scelgono proprio il nostro mare e più o meno hanno le stesse esigenze dei diportisti e quindi comunque ti conosci in uno o due giorni i tour, con i tour del nostro territorio anche interno. L'aeroporto, altro grande tema, le strategie sull'aeroporto che non siano solo quelle e le ambizioni per l'aeroporto che non siano solo quelle di un punto di partenza per le vacanze degli abruzzesi, ma anche un punto di arrivo di chi viene a conoscere la nostra regione. Penso che forse questa scommessa dei voli intercontinentali con l'allungamento della pista, magari porti qualche abruzzese di ritorno che vive in Canada e in altri paesi lontani dall'Europa a riscoprire le proprie radici, come spesso avviene? Sì, tra virgolette quest'anno sarà l'anno del turismo di ritorno, il Ministero degli Esteri ha finanziato un'iniziativa che riguarderà soprattutto i piccoli comuni delle aree interne che poi tra virgolette sono quelli comuni da cui tanti anni fa i nostri corregionali partivano per cercare fortuna all'estero. Certo la partita dell'aeroporto è una partita importante, è una partita sicuramente che si giocherà con l'allungamento con i cui lavori sono partiti, è evidente che lo sforzo deve essere non quello di rendere comode le vacanze agli abruzzesi che vogliono andare a far vacanza fuori, ma sicuramente di portare in coming, ci stiamo lavorando, tante polemiche sui voli, qualche volo che manca, è evidente che le compagnie aeree hanno dei conti da rispettare come tutte le imprese, parliamo del famoso volo verso linate che è stato chiuso, sono andato io personalmente a parlare con il Presidente di ITA e il quale metto, a loro non facevo il sottosegretario, l'assessore, questo è un volo che perde 3 milioni e mezzo di Euro l'anno, se ce li mettete voi noi li teniamo in piedi, altrimenti lo sopprimiamo. Evidente che bisogna fare delle scelte, ne stiamo facendo, la verità vera è che comunque i passeggeri all'aeroporto di Pescara, all'aeroporto d'Abruzzo in 5 anni sono cresciuti di circa 250 mila unità, sono tutti turisti? No, sicuramente no, ma sicuramente è uno strumento necessario e importante per una regione che vuole candidarsi ad essere una meta turistica importante. Per quanto invece riguardiamo la rete dei porti abruzzesi, devo dire che oggi l'Abruzzo è dotata di una rete importante di attracchi turistici, devo dire noi nei limiti del possibile come Regione Abruzzo attraverso un fondo ministeriale, fondo unico nazionale del turismo, stiamo cercando anche di dargli una mano, l'anno scorso abbiamo finanziato, dato una mano ai porti di Vasto e San Salvo, quest'anno lo stiamo facendo con Francavilla e Pescara, il Marina di Pescara, l'anno prossimo chiuderemo con i porti terramani. Anche qui c'è uno sforzo importante a far sì che il turismo da riporto diventa un segmento del turismo in generale, spesso il turismo da riporto è stato visto come una cosa un po' da ricchi, oppure il porto turistico era visto come il parcheggio di chi aveva la possibilità di avere una barca, non è così, tra virgolette come Commissione Politica e Turistica della Conferenza Stato Regioni, che come ricordava Dario io ho l'onore e l'onere di presiedere, l'anno scorso abbiamo fatto anche un ADP, un accordo di programma con il Ministero del Turismo, una parte era dedicata alla promozione dei porti turistici, anche quella è una fetta in crescita di mercato e quindi cerchiamo di non tralasciare niente per sempre quel discorso che dicevamo prima, far crescere e far conoscere sempre di più l'Abruzzo. In questa logica c'è una cosa a cui lei tiene in maniera particolare, perché possiamo dire lei, anche se è una scelta della Regione, però ne è considerato un po' il padre, vorrei dire il decollo della Film Commission, lei faceva riferimento a Rocca Scalegna dove in tanti vanno, perché lì sono stati girati film molto importanti, uno degli ultimi di Garrone, mi viene in me, poi anche ovviamente Calascio e ci sono questi set, queste location. immagino che ugualmente qualcosa accadrà dopo questo straordinario film di Milani, un mondo a parte per le aree che conosce più da vicino invece Dario Colecchi, insomma l'Abruzzo come set naturale, si diceva anche questo prima, come teatro naturale ma anche come set. A che punto siamo nella realizzazione concreta di questa struttura che è già nata? Sì, la struttura già è nata, nel corso dei prossimi mesi entrerà nella parte operativa, quando riusciremo, siamo già riusciti, però manca una piccola parte di cofinanziamento da parte di Regione Abruzzo ai fondi della programmazione 21-27 che intendiamo mettere a disposizione nella Film Commission. L'Abruzzo anche senza grossi aiuti da parte della Film Commission è già un teatro naturale per chi vuole girare un film, c'è un set importante e poi la vicinanza con Roma sicuramente aiuta. L'ultimo film che ricordavi tu di Riccardo Milani, io ricordo quando loro sono venuti nel mio ufficio… Ci racconti qualcosa? Anche noi siamo parte di questa produzione perché anche noi abbiamo fornito delle immagini per la realizzazione del film. Sono venuti i produttori a parlarmi di questa idea, noi a quel momento non avevamo ancora in piedi la Film Commission, noi avevamo una legge la 98-99 che è un aiuto agli audiovisivi girati, sono pochi soldi, vanno a bando, sappiate che potete attingere alla possibilità di partecipare a questo bando che vede un aiuto di 200 mila Euro che poi tra virgolette di cui non hanno nemmeno… hanno vinto il bando però poi alla fine non hanno nemmeno usufruito di queste risorse, mi avevano parlato dell'idea bellissima di girare nel Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi Adopi, Pescassero, devo dire che lì una grossa mano ce l'ha dato l'amore che ha il Regista Milani per quelle zone. Qui abbiamo, a Collecchi che magari ci racconterà anche qualcosa, mi viene in mente la guerra degli Antò guardando Gianni Tavucci e Montesilvano, quindi diciamo che è un amore di vecchia data. E quindi sicuramente una mano ce l'ha data, mi avevano più o meno raccontato la trama del film e poi è diventata una bellissima realtà che è un altro pezzettino che mettiamo a disposizione dell'Abruzzo per la produzione. Si vedono gli autobus della tua, insomma si vedono anche una parte di Abruzzo che vi riguarda direttamente, quindi il ruolo della Regione è stato molto presente. Sì, devo dire di sì, poi abbiamo avuto un ruolo di supporto logistico normale, ma soprattutto attraverso contattanti comuni perché la Film Commission è importante, avere dei fondi importanti, ma è importante che deve crescere anche la cultura delle zone oggetto di un dei film, insomma di dove si girano i film perché è evidente, mi spiegavano ovviamente che se per richiedere un divieto di sosta un comune ci mette tre giorni, insomma si gira da un altro posto, quindi bisogna creare anche una rete presso gli enti locali di persone pronte e dinamiche a capire le esigenze di quello che è un set cinematografico. Questo ripeto, anche per quanto riguarda il turismo di ritorno, io ho fatto una circolare a tutti i comuni, li ho convocati perché capisco che un italiano di terza generazione che non è nato in Italia e che decide quest'anno attraverso questa occasione del turismo di ritorno di andare alla riscoperta dei luoghi da dove il nonno è partito 100 anni fa e magari si rega al comune, magari trova un dipendente dell'ufficio anagrafe che magari lo snobba un po', ma non si mette a discussione. Magari non conosce l'inglese, insomma. Assolutamente sì, anche questo è un problema, però magari non chiediamo a tutti i dipendenti dell'anagrafe di Abruzzo di conoscere l'inglese, ma di capire l'esigenza di uno che magari vuole cercare l'estratto di matrimonio dei nonni che sono partiti 100 anni fa se non sei pronto. Per gli italiani a volte, per chi chiama da fuori. È evidente che bisogna essere pronti a tutto, la Regione ha sicuramente il compito quello di promuovere l'Abruzzo, poi la palla passa agli operatori, è evidente che… E loro sentiremo e ci fermiamo per un'altra ultima pausa, poi mi piace ascoltare su quello che abbiamo detto, l'esperienza e anche le cose che vorrà dire Colecchi e naturalmente Gianni Tauci. A tra poco. Siamo tornati in studio, allora Colecchi, stavo parlando per esempio dell'importanza anche del cinema per far conoscere delle realtà che sarebbero marginali, ovviamente non è il caso di Pescassero e Leopi che sono destinazioni già conosciute, mi riferisco al film Un mondo a parte, dal turismo che però non è un turismo destagionalizzato, perché abbiamo visto anche le prove nel film che quando è inverno lì è davvero inverno, ma io sono certo che il Parco Nazionale godrà anche di questa pubblicità mondiale che questo film ha offerto e di cui come si diceva giustamente siamo grati a Riccardo Milani, a chi ha scelto questa location, ma poi appunto si tratta di attrezzarsi, perché il piccolo poi quando viene invaso dalla massa dei visitatori se non è attrezzato può avere questi problemi di crescita, anche se paradossalmente quello è un film che parla di decrescita. Come la mettiamo? Riccardo Milani giocava in casa, è un uomo che è affascinato, è un uomo che è affascinato, è un uomo che è ama l'Abruzzo, il Togur, giocava in casa perché era conosciuto, quindi ha avuto gioco facile nell'organizzare e nel reclutare anche gli attori e le comparse sul territorio, quindi diciamo che per Riccardo Milani è stato semplice. Noi chiedevamo a gran voce una film commission già da 15-20 anni fa, finalmente siamo arrivati al dunque, la film commission serve per organizzare il territorio e per rendere ai produttori la vita facile e semplice, perché se non si conosce un territorio senza una gestione dei servizi che ci sono diventa complicato, difficile e stressante produrre qualsiasi tipo di… voi me lo insegnate anche per i servizi che dovete fare, se non avete appoggi territoriali diventa complicato. Il film già porta comunque presenze nei fine settimana per la curiosità di vedere il paesino del film, quindi diciamo che la strada è indubbiamente la strada giusta, i risultati già li vediamo nei weekend appena trascorsi. Ci sono i visitatori anche a Sperone che esiste davvero, che è quella località totalmente disabitata, mi dicono che ci sono macchine che si fermano lungo la strada e vanno a visitare le rovine di un paese disabitato. La domanda però che io le facevo è un'altra, è come organizzarsi per questo turismo e quali sono i supporti che anche voi potete dare come innovazione rispetto ai curiosi che poi vogliono diventare anche turisti. La regione Bruzzo ha già previsto un coinvolgimento di tutti i supporti tecnologici a disposizione degli operatori e a disposizione della regione, infatti nella Commissione è previsto anche l'utilizzo del DMS con i servizi che sono sulla piattaforma e consultabile a qualsiasi tipo di società o di produttore che voglia imbastire un set cinematografico in regione Bruzzo. Quindi anche su questo dal punto di vista tecnologico diciamo che oggi la regione Bruzzo sta in prima linea e avanti rispetto a quello che è lo scenario nazionale. Bene, Gianni Tauci, glielo chiedo da manager turistico ma anche da rappresentante di mondo di imprese che è il mondo che lei da anni vive anche di persona. Abbiamo detto è importante l'immagine, anche su questo l'Abruzzo sta facendo sforzi riconosciuti da tutti, far vedere quanto è bello l'Abruzzo, è importante però un altro, anzi forse è ancora più essenziale perché vediamo anche posti più brutti dell'Abruzzo che invece hanno un incoming piuttosto elevato, la reputazione e la capacità di viaggiare sui social e la reputazione social allo stesso tempo. Su questo gli operatori fino a che punto sono preparati? Devono ancora fare tanto, ma è naturale che la velocità del cambiamento rispetto all'utilizzo di tutti i social, le piattaforme di comunicazione è una velocità che alle volte è anche complicato starli dietro. L'attenzione loro al prodotto proprio è un'attenzione molto importante che fanno oramai già abbastanza, anche se poi i più piccoli, i mille microattività hanno grandi difficoltà ad acquisire queste competenze. Cosa differente invece poi è il problema del territorio, che è un territorio che le volte è fatto di persone che hanno poca attenzione a una singola, al problema più ampio e vanno a fare video, fotografie di cose singole senza neanche rendersi conto che quella reputazione diventa una reputazione macchiata da qualche persona che vuole solo un minimo di visibilità, ma che fa del male a tutto il territorio. Su questo è naturale che bisogna lavorare tanto, soprattutto nel far comprendere al cittadino, all'utente che bisogna parlare bene del proprio territorio, anche se alle volte ci sono sicuramente delle problematiche da affrontare, ma bisogna parlare bene perché il parlare bene del proprio territorio, perché poi l'Abruzzo è un bel territorio, fa bene a tutti, anche a coloro che non lavorano nel comparto turistico. Sulle imprese tanto c'è ancora da fare, ma non solo su quelle turistiche, perché poi il turismo è fatto anche di tutte le altre imprese, quelle del commercio, quelle della produttività agricola, quelle dell'industria, quelle dell'artigianato. Come diceva anche del pubblico, dell'assessore, di quello che risponde al telefono all'anagrape del Comune. Assolutamente, quindi siamo una regione che si sta delineando come una regione che viene sempre più attenzionata dal turismo e dal turista, ora bisogna creare quella rete di rapporti e quella rete di competenze che poi produrranno uno sviluppo importante che sarà utile per le nuove generazioni affinché non abbandonino, adesso riprendo il tema di Milani, non abbandonino il territorio, ma sfruttino questo territorio anche come il lavoro proprio, lo sviluppo del territorio. Ma esiste, lo chiedo prima a lei e poi lo chiederò agli altri ospiti, sostanzialmente in chiusura di questa nostra chiacchierata, esiste un tema sulla formazione degli operatori turistici? Sì, esiste un tema sulla formazione, esiste anche il fatto che ci sono mille sfaccettature sulla formazione e bisognerebbe anche qui mettere in rete un'attività di formazione adeguata che alle volte gli operatori vanno a cercare a mille chilometri distanti con risorse importanti quando basterebbe fare rete e creare le condizioni per cui la formazione si fa nel territorio con i migliori professionisti, ma ognuno per il pezzo proprio, senza poi andare a pensare che faccio tutto, ma poi in realtà non faccio nulla, quindi ognuno deve formarsi per la competenza della propria attività. E Collecchi, a questo proposito il Polo Innovatour che tipo di sostegno può dare alla formazione sul turismo? Il Polo Innovatour fra l'altro è presente anche nell'ITS Turismo e Cultura, quindi c'è un'attenzione particolare su quello che è la formazione, il problema è che molte aziende ancora non fanno quel passo che dovrebbero fare per allinearsi a quello che è il mondo oggi dei social e della vendita online, vuoi anche perché c'è un passaggio generazionale che è un po' lento, siamo un po' vecchiotti come imprese, il passaggio generazionale diventa un po' complicato, quindi quello blocca un pochino, perché poi le nuove generazioni sono abituate e culturalmente consapevoli di quello che sono il mondo dei social e il mondo della tecnologia. Comunque la formazione è fondamentale, la formazione è fatta di settore, sui vari settori perché oggi si è specifici per ogni attività che si fa, quello che è importante sarebbe avere comunque una formazione sulla comunicazione della singola destinazione in quanto tale, perché molto spesso ci sono delle contraddizioni in termini fra la promozione e la comunicazione della singola destinazione rispetto a quella delle aziende o addirittura rispetto a quella della regione, andrebbe rimesso un attimino in fila e ricatalogato il tutto e la formazione sicuramente aiuta. Quanto si deve coniugare Assessore, scusi perché sostanzialmente lo è, al di là dei formalismi, da Mario il tema della formazione anche col grande problema che investe e questo lo sa bene Tauci tutte le aziende anche del turismo, quello del passaggio generazionale perché abbiamo l'ITS, appunto di Moscianco vi faceva riferimento con Lecchi, abbiamo anche prestigiosi istituti alberghieri in questa regione che riescono a tirar fuori figure, poi non sta a me dire i grandi chef, la grande qualità dei vini, di tutto ciò che ruota comunque attorno al turismo, in particolare a quello esperienziale, però a far rimanere in Abruzzo queste figure, trovare anche opportunità occupazionali e superare anche il grande tema del passaggio generazionale nelle imprese del turismo, fare diventare davvero anche conveniente oltre che gratificante questa formazione che si svolge. Il tema della formazione, delle competenze, dell'aggiornamento delle competenze non è un tema che riguarda solo il turismo, oramai la sfida di ogni territorio che vuole essere competitivo in tutte le attività è quello di aggiornare continuamente le competenze, oggi è evidente che c'è un passaggio generazionale che non riguarda solo il turismo, se pensate per esempio all'agricoltura in cui c'è un passaggio generazionale difficilissimo in cui magari i giovani preferiscono più fare altri lavori e non rimanere nell'azienda di famiglia che magari gli ha consentito un livello di vita dignitoso, quindi è un tema importante non solo per il turismo, noi abbiamo un sistema di ITS importante, devo dire in Abruzzo che riguarda sicuramente il turismo, ma riguarda anche il settore automotive, il passaggio generazionale ovvio va aiutato, va aiutato anche attraverso la possibilità dei giovani che decidono di intraprendere lo stesso lavoro che hanno fatto i propri genitori con una serie di sostegni, noi l'abbiamo fatto ultimamente con un bando per quanto riguarda le attività ricettive, per l'ammodernamento delle attività ricettive in cui si dava una premialità alle aziende gestite dai giovani e dalle donne, è evidente che questo è quello che può fare la Regione Abruzzo, la Regione in generale, l'istituzione in generale, prevedendo in ogni bando, in ogni aiuto una premialità per i giovani, per le donne, per le aree interne che magari sono un po' più disagiate e questo è quello che può fare, io ritengo che comunque oggi in Abruzzo ci sia crescendo la consapevolezza che il settore del turismo può rappresentare una fetta più importante del PIL regionale, può rappresentare magari per le aree interne se non la principale attività lavorativa, ma sicuramente un aiuto a reddito familiare attraverso la piccola recettività che quindi consente anche non a tutti di volere a tutti i costi vivere lunga la costa, poi è evidente che quando parliamo di aree interne, dello spopolamento, un discorso lungo, purtroppo nelle aree interne oramai le persone che ci vivono non sono più in età ma riproduttive e quindi più che le persone vanno via e che non ci sono persone che nascono, purtroppo il bilancio tra le persone che purtroppo ci lasciano e quelle che nascono è sempre il negativo, ma tra virgolette perdono abitanti anche Pescara, Chieti, non è un fenomeno solo delle aree interne. Allora io voglio chiudere gli ultimi 5-10 minuti massimo perché voglio mettere in positivo, abbiamo parlato senza nascondere nulla anche di qualche criticità, di qualche problema che comunque si svolge nell'ambito, ripeto, di un settore in crescita per la nostra regione e credo anche per l'Italia in particolare, perché poi non sono problemi specifici dell'Abruzzo, ma di tutte le regioni anche e soprattutto di quelle emergenti nell'offerta turistica internazionale, ma proprio perché voglio chiudere sull'offerta turistica sulla stagione che inizia, voglio chiedere a tutti e tre, siccome ci vedono anche i streaming fuori da altre regioni, come organizzereste, cosa succederebbe lei a una famiglia che vuole trascorrere luglio-agosto una settimana in Abruzzo, che si può fare in una settimana in Abruzzo? Iniziamo da colento. In Abruzzo si può fare di tutto colento, abbiamo un turismo esperienziale che è fantastico, è difficile trovare uguali in altre regioni, purtroppo spesso non ben catalogato, ma tra escursioni, passeggiate, attività sportive di ogni genere, anche innovative, il paradiso che offre la natura anche solo per la bicicletta, tutto il discorso della parte artistica fra città e paesi che sono veramente belli e importanti anche sotto il profilo storico e poi soprattutto si mangia e si beve e si beve bene in Abruzzo, quindi è un'esperienza tu cura per tutta la settimana. Tau? Ma è anzitutto farsi un bel giro in barca, visto che abbiamo un bel porto turistico a Pescara, ma a parte la battuta, sicuramente sotto la settimana con l'opportunità di godersi il mare in alcuni giorni, perché poi abbiamo un mare splendido sia attrezzato ma anche a livello naturalistico, quindi farsi il bagno nelle acque più pulite d'Abruzzo, anche quelle più belle e poi alternandolo, come diceva il Presidente, in momenti di turismo esperienziale, quindi andare alla scoperta di una regione che una volta che la si conosce non la si abbandona, quindi dalla montagna alle colline, fiumi, alle attività in bici, in kayak, in arrampicate, in attività anche culturali, perché poi abbiamo dei poli artistico-culturali importantissimi, quindi in Abruzzo sicuramente non ci si può annoiare, si conclude la serata con dell'ottimo cibo, quindi quello che la maggior parte delle famiglie fanno oggi quando vanno a fare una vacanza e quindi scelgono la vacanza per tornare con delle emozioni, per tornare a casa con la certezza di aver vissuto emozioni in un luogo, in Abruzzo lo si può fare, perché abbiamo luoghi bellissimi in distanze contenute, quindi a differenza di altri noi con 30 minuti riusciamo a salire le più belle montagne dell'Appennino, che non fanno sicuramente, possono essere in alcuni casi messe al pari di altre montagne delle Alpi e anche delle Dolomiti, perché la Prati di Tivo è uno spettacolo della natura. E lo vedremo tra qualche ora anche in Mondovisione. E quindi noi qui possiamo fare veramente tutto. Da Mario, faccia il tuo ragione. Beh, insomma, hanno detto, chi mi ha parlato prima di me ha detto tutto quello che si può fare in Abruzzo, sicuramente è da sottolineare il fatto che in Abruzzo tu puoi fare il bagno e dopo veramente in pochi minuti di essere sulle cime più alte dell'Appennino e questa è una cosa che è impagabile, se poi durante questo viaggio dalla spiaggia magari a Campo Imperatore hai la possibilità di attraversare tre parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette, perché l'Abruzzo, oltre alle tante sfaccetture che abbiamo detto, rimane la regione verde d'Europa, però anche altre regioni sono verdi, però non dobbiamo dimenticare che una cosa, pure l'Umbra è una regione verde, per l'amore di Dio, però il verde naturale è una cosa, il verde tutelato è un altro. Oggi devo dire che anche con i parchi nazionali c'è un continuo scambio di idee, cosa che prima... C'è una maggiore sensibilità anche da parte loro verso il tema del turismo e della sostenibilità turistica? Assolutamente sì, l'ente parco che prima spesso anche dalle comunità locali era visto come l'ente che dava un freno, che frenava lo sviluppo locale, oggi anche gli enti parco hanno capito che devono essere un ente di tutela, ma devono essere anche un ente che dà la possibilità di sfruttare le tante cose che negli anni hanno tutelato a vantaggio dell'autonomia locale e quindi sono sicuramente un'occasione non solo di tutela, ma soprattutto di sviluppo territoriale. Per il mare? Per il mare che vogliamo dire? C'è un po' di preoccupazione, lo sappiamo da parte degli operatori per questa vicenda delle concessioni, ne parleremo ovviamente in altre sedi, però c'è anche una serie di aspettative positive per un'industria che è trainante per un turismo di breve permanenza, ma anche un turismo locale che è sempre molto florido. Anche qui, ripeto, l'Abruzzo è una regione unica perché unisce alle spiagge sabbiose attrezzate, dalla parte nord fino a Francavilla, poi a calette isolate, ai trabocchi, spiagge che ricordano magari la Liguria, quando vado alle coste trabocche è sempre questo accostamento con la costiera Ligure, quindi è difficile nella stessa regione trovare la possibilità di stare comodi in una spiaggia attrezzata dedicata alle famiglie e bambini. La sera, cenare su un trabocco. Attrezzata per le famiglie, spiagge attrezzate e poi magari invece chi vuole fare un'esperienza attraverso le calette e raggiungere la spiaggia anche in maniera qualche volta difficoltosa, ma sicuramente più appagante, quindi penso che l'Abruzzo, ripeto, abbia tutto quello che serve per far felice un turista. Anche perché l'hanno iniziato a conoscere e hanno iniziato anche a tornarci, dai primi dati che ci parlano, non dati, diciamo sensazioni che ci parlano di località turistiche che già dal mese di maggio cominciano a avere, grazie soprattutto al ciclismo sulla costa, un flusso che in passato non c'era mai stato, questo è un dato di fatto, credo che sia lo stesso anche nelle zone interne. Gli auspici sono davvero positivi per tutti, per il resto c'è anche da dire una cosa, siamo sotto il cielo e siamo sotto il cielo di una stagione che ormai purtroppo è quasi irreversibile di cambiamenti climatici, quindi l'augurio vero che possiamo fare a tutti gli operatori del turismo e a tutti i turisti abruzzesi che sia veramente una bella estate. Con questo io direi di salutarci, Assessore vogliamo fare tutti gli scongiuri, Assessore io la continuo a chiamare così, ma io ritengo che ci sono tutte le premesse per far sì che sia una bella e soddisfacente stagione estiva, è evidente che come dice tutto, oramai è consolidata l'idea che i cambiamenti climatici possono influenzare anche il sistema turistico, lo dicevo prima, oggi la gente soprattutto magari per i weekend non estivi guarda le previsioni meteo e decide il venerdì sera se poi partire oppure no, abbiamo per esempio per quanto riguarda le montagne, il problema a Roccaraso diciamo che ci si è salvati, però anche lì c'è un problema da affrontare legato alle montagne dove oramai la neve è sempre più rara e quindi c'è anche lì un lavoro da fare che è stato fatto e che stiamo continuando a fare per far sì che con il sistema di innevamento le piste d'asci siano utilizzabili anche quando la neve non scende naturalmente, insomma c'è tanto lavoro ancora da fare, però ripeto io ritengo che la direzione tracciata sia quella giusta e ritengo che dobbiamo proseguire con quel cammino intrapreso 5 anni fa. Grazie, grazie a tutti voi, naturalmente buon giro d'Italia per domani, saremo tutti incollati alla televisione per vedere oltre alle fatiche, alle pedalate e alle sudate dei corridori il nostro meraviglioso Abruzzo, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.